Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi e buona vista al vostro Hector Elio della Pegna Valbuena e Spindosa del Santiago de Compostela e Spagnoli Aua a tutti ragazzi, allegria! Come siamo felici, ieri ci siamo lasciati con la vittoria dell'Italia e questo è l'inviato di altri due bronzi e l'arrivo al decimo posto in graduatoria Prima gli Stati Uniti, seconda la Cina e terza il Giappone La Lazio invece ha vinto una zero contro il 20 Però oggi parleremo di altre cose Volevo dirvi che dopo aver passato un difficile periodo che ricordiamo fino ai primi mesi dell'anno in cui ho avuto il Covid Finalmente farò il vaccino Bene, mi vaccinerò domani 10 agosto Domani a 10 agosto alle ore di 11.30 Alle ore 11.30 Presso l'ospedale, cioè la casa di salute di Cosinone Insomma, Fabrizio Spaziani Ecco, volevo dirvi questo E la seconda vaccinazione invece la farò Non so se la debba fare, anzi commentate qua se devo fare la seconda vaccinazione perché ho passato il Covid e quindi forse è sufficiente solo una Vabbè, la seconda ce l'avrei il 31 agosto Alle 11.30 Sempre a quello radio lì A presto al vostro ectore Della pegna al buene spindosa di Santiago de Compostela in spagnolo A tutti ragazzi Vi saluto e vi ringrazio sempre e comunque Forza Lazio Bella a tutti, belli e brutti A presto Forza Azzurri E buona Vai tutti insieme E buona La prima